calzino questo è calzo adattamento calzo colando ma questi dei don e se uomo questi uomini fantasmino e di euro fantasmino di euro ho vanno a sminno di euro mi vanno a sminno vuole passare sminno ma quando costo no a di euro se vengono cazzo e colante alla prossima foto questo è fantasmino cazzo dino bianco netteno no non è non ce la dà francesco non ce la dà ero le batterie ripetiamo che le ricevono ho visto i batteri non ce la dà non ce la dà francesco non ce la dà già fa che il soldo ho visto i batteri no ce lo dà non ce lo dà non ce l'ho visto non ce l'ho visto quando c'è l'ha no è batteria chi si dice fai che non vuoi meglio che nulla no no un modello da pantele azionare le opati lo zidare ma gesco non ce la dà ma ce la dà mi la dà mi dai un pacco di dvd un pacco di dvd quattro cd quattro cd non è un dvd ah quattro il dvd no dvd e poi mi dai l'attivante quattro lo dvd no è un mimo danni cd uno cd mimo danni sono tre tre dvd questo è mimo danni tre di queste uno cd ma si qua ne ho tutto qua ne ho tutto Allora, due euro, due euro, due euro, due euro, e uno ci per calaccio, quattro, quattro, quattro? 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 Quattro. Quattro? Quattro. Quattro? Passata? Va bene? No. Perchè non vedo se… Non lo so, ma non lo so… Il calzino, che cos'è questo, un calzino? Ciao! Ciao ciao! Calzoni! Hai sentito afferito? Si. Qual è te lì? Tu hai perso questo? Buonissimo. Il tuo mazzo? Buono. No, ho rispettato qui. Guardi un livello di tre. Guardi. Guardi un livello di tre.